Ciao a tutti ragazzi del GTF Clan, io sono Yuno e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qua a proporvi un gameplay veramente assurdo che si tratta di una doppia de-atomizer in 3 minuti e 46 in solo, fatta dal nostro grandissimo GTF Riot. Visto che da un po' che non ci si sente di Vuron, non so praticamente nulla, quindi non so nemmeno la mappa e nient'altro, quindi vi dico subito due cose. Passate dalla pagina Facebook in descrizione e innanzitutto abbiamo appena creata oggi la community su PS4, quindi cercate GTF Clan sulle community ed entrateci. Non serve l'approvazione nulla, quindi sarete dentro subito. L'abbiamo fatta che per magari giocare un po' con noi e magari voi che siete da soli in quel momento e non c'avete nessuno fra gli amici, dite dai voi giocare con qualcuno nuovo, ci scrivete nella chat e magari qualcuno si presenta. Allora l'argomento di questo commentary è una cosa abbastanza strana. Io, Dino, Aze, Bruschetta e tantissimi altri abbiamo fatto una registrazione, cioè un doppiaggio sulla parte finale di Dragon Ball. Ovviamente non vi voglio dire nulla se volete andare a guardare, cioè sul mio canale. A proposito di canali, passate anche dal canale di Riot H&E in giù ovviamente per vedere altri gameplay assurdi perché ne carica praticamente uno al giorno. Detto questo vi voglio dire che il nostro video è andato nelle tendenze in Giappone con nemmeno mille views, what the fuck? È veramente incredibile quella cosa, mi sono arrivato dei messaggi privati di giapponesi che mi chiedevano di farne un altro. Giapponesi in Italia, what? Quindi ci sono rimasto un po' male, cioè noi facciamo dei video per gli italiani e arrivano i giapponesi, i giapponesi totalmente random poi. Poi in tutti i video consigliati in Giappone uscirà il nostro video con nemmeno mille views, è incredibile. E anche da qui capiamo che le tendenze giapponesi sono ancora più belle di quelle italiane. Non c'era nemmeno a specificarlo, data Vergina di Gio e tantissimi altri youtuber. Che non starò qua a divulgarmi molto, ma lo sapete meglio di me, basta seguire Miss Ride o YouTube fa cagare e ne vedrete delle cose ignobili, veramente. E giusto per spammare ancora un po' più del solito, ne faremo un altro, quindi se volete partecipare scrivete nei commenti e verrò a scriverli io su Whatsapp, Milan o qualcun altro per storpiare le vostre voci e metterle dentro. Vogliamo fare un altro su Cell, ma stavolta qualcosa di un po' più espanso, perché veramente l'altro lo potevano capire in pochi, dato l'argomento e altre cose. E visto che ho ancora un po' di tempo, cambio totalmente argomento per chiedervi, ma quali sono i giochi che aspettate quest'anno? Sì ho una tantissima varietà nei commenteri, ma vi giuro che non avevo idee. Io per esempio, fra pochissimo, non so nemmeno perché sto facendo il commenter adesso, devo andare a comprare Horizon, la Collector Edition, perché ho paccato il mio venditore 45 volte, è già bello che non me la tira in culo. E Horizon mi pare un bel titolo raga, poi è uscita anche la Nintendo Switch che non comprerò mai perché è veramente qualcosa di terrificante, soprattutto il framerate quando la mette nella tv. Mi baso sul video di Farenz che ha fatto lui, se no non saprei praticamente nulla perché ho visto praticamente solo quello. E oltre a questo anche Ghost Recon è uscito, mi sembra oggi, ieri, cioè da me è uscito da 5 giorni, abito in Svizzera e rompono il D1 quando vogliono loro perché sono degli stronzi. È già bello che non chiudono tutti i negozi, vabbè ce n'è uno in Svizzera quindi ormai. Facciamo una cosa, se magari comparte Ghost Recon, cosa che prenderò anch'io e altri, scrivete la community di GTF Clan, perché c'è scritto Black Ops 3 in teoria, però non è solo di Black Ops 3, proprio per giocare così, per incontrarci, quindi sarebbe una bella cosa. Ragazzi il tempo a mia disposizione, per vostra fortuna e per mia, è finito. Ah, e se vi stiate chiedendo, ma io non fai cagare a fare i commenti, a fare cagare anche dopo un doppiatore? Sì, faccio cagare anche lì, mi piace fallire in molti modi nella mia vita, in tutto praticamente. Quindi ragazzi, detto questo, è stato un piacere rimanere con voi e farvi sprecare qualche minuto della vostra vita e ciao raga! Ciao! Ciao! Grazie a tutti